Ciao ragazzi, ciao ragazzi, sono tornata con un nuovo video e questa volta parleremo, ma di cosa se non di Tobi? Già, ma perché parlo di Tobi? Parlo di Tobi per chi non conosce razza, perché questa razza non è molto conosciuta, il Chow Chow, Chow Chow, non è molto conosciuta come razza e quindi tante persone che si approcciano per la prima volta con Tobi sbagliano, ok? Io prima di prendere il Chow Chow, Chow Chow, insomma, a vari, si può dire in vari modi, io lo chiamo Chow Chow, mi piace di più, però c'è anche Chow Chow Prima di approcciarmi a una razza del genere mi sono informata tantissimo, ok? Perché io non avevamo in mente di prendere un Aski Io ho avuto esperienza con un Aski, è stata una vita con me, ci sono cresciuta insieme ed è una razza molto complicata Poi ho avuto in mente, mi è venuta da cosa, Akita Americano, l'Akita Americano è una razza ancora più tosta, è una razza molto gerarchica e se tu non sei capace a gestirlo, sei finito Allora ho detto, oh, perché non ci informiamo sul Chow Chow? Adesso non mi ricordo noi come ci siamo fissati con questo cane Se l'abbiamo trovato in giro o qualche video su Youtube, adesso non mi ricordo Ho iniziato a informarmi benissimo su questa razza È una razza facile? No, perché noi le cose facili non piacciono, è il livello dell'Akita Americano? Può essere, però arriviamoci un attimo Io ovviamente non sono un'esperta, mi sono solo molto informata prima di acquistare un cane del genere Prima di tutto è un cane molto costoso Quindi se state pensando di prendere questo cane, andate in un allevamento Perché se voi leggete su Google, qualsiasi tipo di cane costa dagli 800 ai 1300 euro Forse è il negozio, forse i cani che arrivano dall'est Non affidatevi mai a loro, perché poi sono più le spese mediche che quanto avete pagato il cane Andate negli allevamenti dove vendono questi cani Perché sono cani che comunque vanno addestrati e in realtà da cuccioli, da proprio piccoli piccoli E non affidatevi, asticcavano di venditori di cani nei negozi che vi danno i cani E non ho avuto per esperienza personale malati, ok? Quindi affidatevi un allevatore e sì, vi costerà veramente tanto Perché il ciocio costa dai 2000 ai 3000 euro È un cane molto molto costoso Quindi, ok Tolto la cosa del prezzo, che è una cosa rilevante per chi interessa e chi no Insomma, lì poi sta a voi Ma comunque, i cani d'allevamento Anni fa mi informai per una chita, prima di prendere un negozio, feci l'errore grandissimo Mi chiesero 2000 euro Quindi, meno di quello non si trova un cane d'allevamento Ok Partiamo un attimo dalla razza A parlare della razza Il ciocio è una razza antica È una razza quasi primitiva Si dice che sia una razza primitiva È una razza molto antica C'è chi dice che Nasci dagli orsi C'è chi dice che nasci da leoni No Non si sa Comunque è una razza cinese Molto molto antica Già Più esiste nella vita Tant'è che ieri mi ha fermato un signore E mi fa Ormai ci sono tutti questi incroci Tipo un colpo al cuore Lo spiegavo su TikTok Ve lo lascio magari qua da qualche parte E dice No, non è l'incrocio Signor Questo è un cane È antichissimo Non è l'incrocio Ma Io ho 70 anni Non ho mai visto questa razza E mi spiace per te Perché è una razza meravigliosa Però c'è anche da dire che non è molto diffusa Perché è una brutta nomina Il Chow Chow ha la nomina Che è un cane che morde E può essere anche vero Nel senso Tutto dipende un po' da come Tu addestri il cane Il Chow Chow è un cane Che va socializzato tantissimo Sin da cucciolo Quindi io Dal primo giorno al primo giorno Dal secondo giorno che è arrivato in casa Ho iniziato a portarlo Nei centri commerciali Perché purtroppo Piove Piove sempre Da quando è arrivato Non ha mai smesso di piovere È una settimana che lui è qua Ed è una settimana che è di ruvia Quindi Io lo porto chiaramente fuori A fare i suoi bisogni Ma Piove Quindi Chi c'è? Non c'è mai nessuno in giro E quindi Lo porto nei centri commerciali Quando chiaramente non sono affollati Perché sennò Già ogni due secondi Ci fermano quando non sono affollati Figuriamoci se fossero affollati E quindi Quando la gente mi guarda Che bello è un orso Che bello è un ciucciu Che Che bello Posso toccarlo? Io dico sempre sì Sempre con un occhio a riguardo Anche se è cucciolino Però Lui ha il vizio di mordicchiare le mani Quindi Non si sa mai Se avvicini a un bambino Mi piego So sempre là Quindi è un cane che va socializzato Benissimo Ok Il cioccio è un cane anche molto indipendente E un cane molto riservato Quindi Se voi vi dovesse trovare Dovesse trovare Dovesse trovare Vicino a un cioccio Che voi non conoscete Che voi Andate da un amico Che ha questa razza Mi raccomando Approciatevi Come se fosse un gatto Perché il cioccio Si dice che è un gattone Il cioccio è un gatto gigante Praticamente Se voi vi aspettate Se voi vi aspettate il cane giocherellone Vi aspettate il cane Che quando vi vede Vi fa le feste Non è il cane adatto a voi Non è il cane Che vi aspettate Magari anche a casa Di un amico Di un parente Quindi Mi raccomando Entrate in casa Vi fate annusare Le fate una carezza E lo lasciate Come se sto cane Non esistesse più A meno che non sia lui Di avvicinarsi Perché è un cane Molto diffidente Soprattutto con le strane È molto legato alla famiglia Ma è molto diffidente Con le strane Quindi Che non vi venga in mente Di andare a casa di qualcuno E fiondarvi sul cane Perché no Non gli piace Ok È un cane anche molto territoriale Quindi se tu le invadi I suoi spazi A lui gli girano 5 minuti Quindi Mi raccomando Non è che Che è bello No Mi raccomando No Ciao Come sei bello Lo lasciate per i fatti suoi Se volete invece fare queste cose Andate da un labbra Adora Andate da un altro tipo di razza Ma il Ciocio Non è un cane Con cui si può giocare Ma noi ne eravamo consapevoli Quando l'abbiamo preso Grazie Stella Per questo Aiuto Che mi ha dato Non sapevamo Sapevamo che era un cane così Quindi mi raccomando Andateci piano Non è un pupazzo Non si prende in braccio Anche perché lui Odia essere preso in braccio Io prendo Per estrema necessità Quindi sali e scendi le scale Perché ancora non le può fare Cucciolo Non può salire le scale E scendere da solo Per il fatto di splasia Mi sembra Non lo so Mi ricordo Lo prendo per scendere dalla macchina O se c'è un caso estremo Di cane aggressivo Lui si spaventa Lo prende in braccio Ma se posso evitare Evito Perché non gli piace Lui brontola Quando è in braccio Lui fa Non ringhia Perché è un ringhia Parla È un cane che parla tantissimo Quindi non è un cane Da strapazzare Ecco Detto questo È un cane che è russa da morire Russa da morire È una roba che Noi di notte ci facciamo le risate Perché si sente il cane russare Ma tantissimo Ed è ancora il cuccio Di immagino da grande Come sarà Poi Altro punto Il ciao ciao È un cane educatissimo Lui è arrivato in casa E dal primo giorno che è arrivato Aveva due mesi E dieci giorni spaccati Ne ha fatto tutto Sempre nelle traversine L'unica cosa È che per lui È ogni tappeto È traversina Quindi io ho dovuto Togliere il tappeto Dove ha le ciotole Perché lo prendeva per traversina E il tappeto del bagno Perché lo prendeva per traversina Ma per il resto La fa solo Cacca di più Sulle traversine È un cane Ma non il mio generale Ciao ciao È un cane di un'intelligenza Pazzesca Io gli ho insegnato Ve lo giuro In tre minuti Il seduto E dargli il croccantino Roba che Tanti Oh se ne vogliono eh Settimane anche Lui in tre minuti Ha capito che doveva sedersi Per avere il croccantino È una roba Cioè è qualcosa di spaziale Sto cane Infatti noi siamo ancora Sapevamo che era Una razza intelligente Ma non così Siamo proprio stupiti Da questa cosa In più È una razza che abbaia poco L'allevatore Adesso è cucciolo Quindi lui A ogni rumore strano abbaia Ok ci sta Di notte infatti Quando noi siamo tutti quanti Ha detto Che stiamo chiaramente dormendo Appena lui sente un rumore Che viene fuori dalla porta Inizia a abbagliare Perché È un cane appunto Da guardia Lui nasce come cane da guardia E c'è un c'ho Proprio così È proprio genetica La sua Quindi a ogni rumore Che sente da fuori Abbaia Controlla che non c'è nessuno Dall'altra parte della casa Torna e viene a controllarci tutti Perché io posso sempre Dire di notte Non darmo mai Sono sempre sveglia Quindi vedo cosa fa I suoi movimenti Controlla tutti E poi si sdraia a dormire È fantastico Infatti tant'è che L'allevatore mi ha detto Non crescerlo come cane da guardia Perché diventa una Achila da guerra Sto cane È già De genetica un cane da guardia Nessuno si può avvicinare A meno che tu non lo voglia Quindi Non incentivare questa cosa Del cane da guardia Perché già lo è E poi succederebbe Casino Quindi anche questo Anche tanti dicono Oh ma non ha la lingua blu Ecco io questa cosa Non la sapevo Ma non L'ho scoperta Avendo Tobi L'unico cane senza Lilla No l'unico no Senza lingua blu È Tobi Tobi è la lingua lilla Ha le mucose Quindi che sia tutte le gengive Lingua Viola Lilla Non c'ha la lingua blu Fa niente Fa niente Alla fine Era solo una caratteristica In più della razza Ma non me ne frega niente Anzi mi piace di più La lingua lilla Proprio carina Proprio carina Il tenerino Volevo farvelo vedere Ma dorme Oh ma però Perché è russa Quindi no Lui non ha la lingua blu E no Non ne diventerà mai La lingua blu Perché la lingua blu Si forma entro due mesi Ha gli occhi verdi Ha degli occhi spaziali Cioè È bellissimo Il suo colore è cioccolato Di sé È tutto particolare Il tartufo è marrone Abbinato al pelo Che è bellissimo Sto di avervi detto tutto Non sono sicura Se ho dimenticato qualcosa Vabbè Non fa niente Quindi mi raccomando Ve lo ripeto Se cercate un cane Perché le amiche Morde Nel senso Può sentirsi attaccato E morde Quindi Io lo dico sempre Mi raccomando Se una bambina tranquilla La sì Se no Evitiamo Lo vedono comunque Quando da scuola Li fanno comunque Con la carezzina Poi sta anche al genitore Di dire Ascolta Vai a casa di questa persona Che è un cioccio Mi raccomando Comportati come se fosse Un cane Ma non un cane In senso Non esageratamente Ma quello va comunque Con tutti i cani Perché bisogna avere rispetto Per gli animali Io penso così Cioè Quindi Mi raccomando Approcciatemi sempre bene Ma a qualsiasi razza E togliendo il cioccio Mi raccomando Perché non sono pupace Se poi il cane morde Non è colpa del cane Se non lo stressiamo Quindi Dato questo ragazzi Questo video è finito E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao